Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di una pialla a spessore. Come vedete, questa è la pialla a spessore della Vervor. Anzi, è una delle pialle a spessore della Vervor, perché ne vende di diversi modelli. Questa fa 1500 W di potenza e pialla a pannelli massimo 32 cm. Poi ne ha un'altra che è più grossa come potenza, arriva fino a 2000 W di potenza. E poi altri due modelli che piallano pannelli più grandi oppure più piccoli. Pannelli più piccoli, quindi vuol dire che è più piccola e più compatta. Allora, mi ha contattato la Vervor, mi ha chiesto se volevo fare un video su uno dei loro attrezzi. Mi ha mandato una lista e nella lista c'era questa pialla. Sono stato contentissimo, l'ho scelta. Questo perché? Perché la conosco molto bene, visto che ne ho un'altra che è praticamente molto simile a questa. Se siete iscritti al mio canale, sapete che io ne possego già altre due di pialle. Una a filo spessore che fa parte di una combinata che praticamente non utilizzo mai, perché è un po' complessa da utilizzare, bisogna montare le guide, aprire il pianetto, chiudere il pianetto. Invece quell'altra che è simile a questa, la utilizzo veramente, veramente tanto. Perché è semplicissima da utilizzare. Qui ci sono due comuni maniglie. Si alza, si mette sul banco da lavoro. Tramite questo pomello si regola all'altezza della piallatura che vogliamo fare. E niente, si parte con la piallatura. Quando non volete più utilizzarla, fate come faccio io, la prendete, chiudete il pianetto, la metto di profilo e la infilo sotto uno dei banchi da lavoro. In più, all'interno della scatola, ho trovato una vera chicca che avevo visto nei video americani. Ho cercato questo attrezzo per la mia pialla e non l'ho trovata. che è questo. Questo è un sistema di scarico degli scarti, come si dice, diverso dagli altri. Questo perché? Perché permette di utilizzare la macchina anche fuori, in un cortile, oppure in un garage dove non avete un sistema di aspirazione. Questo perché di solito, di solito è sempre così, anche nella mia pialla, questo è il sistema di aspirazione che trovate in qualsiasi pialla. Come vedete, qui collegate il sistema di aspirazione, che sia proprio un vero sistema di aspirazione, oppure magari anche un aspirapolvere. E da qui, chiaramente, cosa succede? Che quando la macchina pialla, usciranno tutti i truccioli. Il problema di questo qual è? è che se non avete il sistema di aspirazione, si ferma tutto all'interno della macchina. Quindi, come si chiama, tutti i truccioli rimarranno in mezzo alle lame e ci sarà un problema. Prima di subiscaldamento e poi, soprattutto, come ho fatto io una volta, la piallatura non è uscita bene, perché tutti i truccioli che sono rimasti dentro poi andavano a colpire l'abete che stavo piallando e mi sono usciti i leni tutti pieni di puntini. Difatti, cosa faremo poi? Io l'ho già testata, perché la macchina ormai la possego già da un mesetto. Vi faccio vedere come si utilizza nel mio cortile. La cosa bella è che non spara truccioli dappertutto. Essendo curvo, crea una montagnetta proprio direttamente nella base della macchina. Prima di creare l'unboxing, vedere cosa c'è contenuto nella scatola e soprattutto vedere come è imballata la pialla. Perché vi ricordo che Vervor spedisce dalla Repubblica Ceca, quindi è molto importante che, come si chiama, qualsiasi cosa comprate sia imballata in maniera corretta. Allora, il modello è MB1931, se qualcuno volesse cercarla su internet. Allora, le caratteristiche sono, chiaramente il motore funziona con la classica corrente europea, quindi non ci sono problemi, quindi anche i 50 Hz, quindi problemi proprio non ce ne sono. Potenza del motore, 1500 Watt, nella media dei suoi competitor, fate conto che queste pialle di solito vanno dai 1500 ai 1650 Watt. Vervor ne ha anche una da 2000 Watt e tra l'altro costa anche praticamente uguale. Però vi ricordo che 2000 Watt sono 2 kW, quindi se dovete utilizzarla nel vostro garage o in una piccola officina che avete a casa, fatevi due calcoli perché 2 kW sono tanti, non vorrei che poi avete problemi e vi salta la corrente. Allora, può piallare pannelli fino a quasi 32 cm, quindi 31,9 cm per l'esattezza, poi può piallare un piano che è minimo 5 mm fino a un travetto da 15 cm. Poi può piallare fino al massimo 3 mm di spessore, se esagerate cosa succede? Vede che la pialla si ferma, va in blocco e poi bisogna schiacciare un bottone per sbloccare, quindi non superate mai i 3 mm di spessore. Comunque 3 mm di spessore è già veramente tanto. Questa invece è la velocità della spinta che ha, quindi quando inserite un pezzo, in quanto tempo esce in un minuto, quanti metri riesce a far uscire in un minuto. fa 9.000 giri al minuto a vuoto, quindi senza avere all'interno il pianetto di legno, e poi chiaramente sono contenute nella scatola anche le lame, che sono un paio di lame, quindi due pezzi. Perfetto Poi Perfetto Perfetto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.